Dalla a me, dalla a me! Non fargliela prendere! Passamela! La vuoi? E dai a me! Vieni a prendertela! Dai! Dai, Simon, avanti! Adesso basta! Andate via! Che diavolo stai facendo? Stavamo scherzando. Beh, non mi sembra che Simon si divertisse molto. Mi hai detto di fare sempre come gli altri, imito i miei compagni. Non puoi fare il bullo, Dexter. Prima di tutto è sbagliato. Secondo, la gente si ricorda dei bulli. Persone come me, poliziotti. Un bullo prima o poi diventerà un criminale. Quindi? Devo evitarlo. Oramai.